Eccoci! Così, man, ormai iniziano sempre così le puntate Guardatelo ragazzi, guardatelo Allora What's up? Ma che 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 What's up? Vuoi un po' potoro? Dai man, allora cosa facciamo oggi, su? Non abbiamo combinato nulla, nulla di niente Man, mi è venuto un flash mentale Urla, urla, cosa ti urli? Scusami, ma chi ti urla, sta parlando normalmente Mi è venuto un flash mentale Perché stiamo tornando indietro, innanzitutto Perché c'era una cazzo di ruota in mezzo alle fiamme E non abbiamo pensato a spegnerle le fiamme Per raccoglierle E come facciamo a spegnerla? Un secchiello Ok ma non ce l'hai l'acqua Devi spegnere quella dove c'è la ruota Ma non la puoi raccogli Dove c'è l'acqua Inventario B Togliamo Questo che per il momento non so ancora cosa sia Ma cos'è questo? Ma lo riempio come? Entri nell'acqua Ma sto male lo vedo invisibile tu secchiello Davvero? Si non lo vedo Ma che cazzo Madonna proprio Madonna Vediamo funziona? Prena la ruota Vai prendila tu Bravo Quante ne ruote hai adesso? Una, due, tre Vabbè continuiamo a spegnere tutto Possiamo fare un triciclo Man c'è qualcosa qua Aspetta No Sto capendo man Sto capendo Sto capendo? Luke guarda un attimo qua Chiudi Man ti stavo dicendo Allora guarda qua Ci richiede una batteria innanzitutto Quella batteria lì Non è quella che abbiamo trovato sopra al palazzo Quindi dovremmo a mori salire sopra? Non l'hai presa Non l'ho presa Non si poteva prendere Credo Guarda Interruttore che cambia colore Devastante Come lo fai a usarlo? Ah Boh Ho preso pure questo Bene dai Allora Prendiamo i secchielli E puliamo un po' tutto lo schifo Cioè praticamente Non faremo niente Anche sta puntata Ho già capito L'hai detto L'hai detto Eh però Aspetta lì C'è qualcos'altro Luke Dove? Lì Eh qualcosa per coltivare Uh Man ma c'è pure una Possiamo rubarlo questo eh Beh sì Non così Però tipo Vedi No vabbè Lo stai distruggendo C'è la nostra caglione L'hai disintegrata L'ho disintegrato C'è anche del terriccio E una specie di spruzzino velenoso No vabbè Non è devastante Possiamo raccattarlo Io sto raccattando tutto eh Però dobbiamo fare la palla Io non so come si faccia la pala Eh secondo me dovrebbe iniziare a partire dalla base Ah no aspetta 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 Allora Io sto partendo dalla base Vedo qua Plant Io posso prenderlo questo Ok Perfetto Queste zolle Io le posso prendere Bene ragazzi Guardando il disegnino Luke Vedi c'è Prima metti il terrino di merda Poi dopo ci butti i semi Col secchiello bagni Metti il fertilizzante E poi piano piano cresce Quindi io intanto qua faccio Ma possiamo spostarci anche da qua O sbaglio Quindi io baglio questa Posso bagnarla? Sì quella sì Perfetto Dai una spruzzatina di schifo No al posto Questa è già fertilizzata No devi mettere il spruzzino Guarda qua C'ho scritto Mi metto una spruzzina Sì non vorrei che poi dopo Fertilize Fatto Fatto Vedi che fa le bolle Ah ok È sapone merda questa proprio Merda li abbiamo buttato addosso Ma scusami Allora forse non c'entra niente Alla zolla Ma devo solo metterle dentro No Non ti sta seguendo Ma non si rimane un cazzo Ma che schifo Ci arriva un creeper Ci li fa esplodere Eh questo creeper Ah Ok Aspetta Prima di mettere i semi Arca tra Nove Ok Bravo Aspetta però che non si capisce niente Di quello che stai facendo Tomato Ok Facciamo metà tomato E metà carote Va bene Sì Ok Io c'ho il fertilize Quindi Bagna Perfetto Bagna tutto Luke Oh Cos'è sta cosa qua Perché Cos'è sta cosa Ma l'hai fatto esplode Esplode Come esplode Che cos'è sta roba Boh Vabbè Niente dai Vado Vai Il fertilize è tutto Il dubbio Ma il fertilize Il fertilize Guarda che È una cagata È perché Dura poco Ne ho otto ancora per il momento Poi l'ho finiti Perfetto Quindi non so tra quanto Bon Precisi proprio L'ho rotto Ma questo è pronto No Luke Dici Ma stiamo qua a mirarli tutto il tempo Dici Andai anche fuori I coglioni Allora ritorniamo all'astronave Che dici Andiamo vai Sì ma non camminiamo troppo Perché io sono messo malissimo Segui me Ti do una pannocchia Ma le pannocchie Non le puoi mangiare C'è una mucca Prendiamo la mazzata Devastante Come c'è una mucca C'è una mucca Ma dove è sbucata E penso che i cosciotti Arrivassero da qualche parte E quindi ora Ma il cosciotto Che fino ha fatto Scusami Ma se faccio a destra a destra Non posso raccoglierla Non si può raccogliere una mucca Ah ma c'è i rapanelli pure Aspetta No Ma dove la stai facendo partire Questa Non si fermerà più Ah che ce n'è un'altra qua Sì Lascia Uccidiamole Le uccidiamo Si vendicano Ci vengono Tutto Mene prendi questa mazzata Questa qua assieme Ci sei? Ma c'è scritto Sun Shark Di proprietà di qualcuno Va bene Non è un problema nostro Tre Vai Due Uno Via Ok Cosciotto Cosciotto Niente Mene Cosa facciamo? Tutto a buio È buio Arriveranno un sacco di mostri Io mi barricarei Nell'astronale Ma dici che arrivano i mostri Guarda quanto sta crescendo Eh sì Sì Dobbiamo capire un sacco di cose Il Fertilize Com'è che si fa? No a me mi si è bloccato il gioco Perché ti si è bloccato il gioco? Si è bloccato il gioco Ma dove stai andando Luke? Mi hai crashato a me Mi hai crashato il gioco Luke Mi hai crashato Corri ragazzo laggiù Ma nient'altro sto perlustrando qua dietro Aspetta a me che non riesco per entrare Oh Sento una musica A me ne sta scadendo il tempo Alla fattoria Vai a prendere la batteria te Luke Andiamo insieme Sì Mi è scaduta la fattoria Andiamo a vedere Ma cosa c'hai? Ma cos'è? Sei tutto blu? Cos'è tutto blu? Ma cos'è sta roba? Cosa? C'è un robottino nel mezzo al lago E muota Ah è un robottino Non capivo Man ti giuro Man ci stanno distruggendo le coltivazioni Ma sei stronzo Infami Ah che c'è un altro che Rompi tutto Ma cosa? Ah ma forse dobbiamo proteggere questo il countdown Io avevo detto che forse era meglio fare un murettino o qualcosa Ho scoperto un'altra cosa a me Si può costruire Decidere la direzione Cosa urli? Dei muretti con la cube Wow Dove l'hai tirato fuori sto muretto? Con la cube? Ben possiamo prenderlo questo Pick up Bella Quanto ce ne ha dati? Ma se facessi una striscia? Due Due Luke Ce ne da due Facciamo così C'è proprio Siamo in due puntate Non sappiamo fare un caso Ma ancora Un caso? Dai andiamo a prendere sta batteria Su Sì beh fammi finire il murettino Così concludiamo l'inconcludente video Che triste Ma cosa serve? I robot entrano e sbattono meno Guarda Ma mi spieghi una recensione di questo tipo A cosa possa servire? Me lo spieghi? Si dipendi dai robot Cioè boh io veramente Dai devo lavare la vicella Vieni qua Vieni qua Senti beh ma dove era la batteria Ti ricordi? Sì era sopra Vabbè wow grazie Era sopra nel senso il primo Secondo piano Ben Sento puttata di robot Eh lo so Andiamo andiamo Robot Con 5T tra l'altro Ok ben ci sono Eccola Con quanta laggata Tra l'altro Eccola Ah niente Bastava semplicemente premere col destra Che degra Che degra Dai andiamo giù Ritorniamo alla nave Sì però vorrei farti notare Che questo gioco È fatto per costruire E non per Survival così In maniera Minimalista Bene stiamo un po' Cazzeggiando Bene Non stiamo in grado di fare niente Stiamo mascherando la nostra inettitudine Nel costruire Può essere Può essere Però Andiamo Ma che stai facendo? Ti fermi Ho preso la batteria La batteria La batteria Ok ci siamo Ok Bene Inserisci Eh beh la luce Già innanzitutto Accende le luci E che? Eccolo Questo forse serve Per fare gli strumenti C'è un robottino Ah sì man Guarda ruote Oddio Un robottino bellissimo Un granaggio Il sedile Il sedile che ci serviva Il sedile E questo qua man Connect tool È una specie di pinza Cos'è? Lo scrap seat Ah bo Scrap Sì ma ci sta Beh di materiali Non è Man possiamo già Craftare il gas engine Beh una cosa alla volta Craftiamo una cosa alla volta Non vorremmo Fai impazzire Chi ci segue Contro Così C'è il microwave Beh non Micro No sto male Sto male Aspetta Vuoi mettere la carne? Sto male L'ho messa Usa E E non funziona Ti raccato tutto Intanto Perché non me la fai usare? Ma questo è stronzo Ti ho preso A testate Con il micro Giochiamo hockey Con questo Ma sei rotto Dai Ecco Concludista puntata Sono svenuto Svengo La concludo svenendo Va bene Va bene Ciao ragazzi Ciao belli Sì ma non volevi svenire Eh sono già svenuto Ma perché non svengo? Spostati Spostati Fai fare a me Fai C'è una mira Che è una cosa È devastante Ben ma c'è qualcos'altro Qua una chest Boh ma stavo scoprendo cose Mi rubo tutto Lascia per il futuro Lascia per il futuro Ho rubato tutto Non spoilerare troppe cose Che abbiamo già spiegato Troppi concetti Arrivo 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 Ciao 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 Arrivo Sta caldo Arrivo Ciao